In questa lezione concludiamo lo studio del sistema dell'apparato cardiovascolare. La circolazione del sangue è divisa in due parti, la piccola circolazione o circolazione polmonare e la grande circolazione o circolazione sistemica. Iniziamo dalla piccola circolazione o circolazione polmonare. Il sangue proveniente da tutti gli organi è ormai povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica perché, come abbiamo già studiato, il sangue ha portato l'ossigeno ai tessuti e quindi adesso è povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica. Il sangue raggiunge quindi l'atrio destro, che è questo, tramite la vena cava e poi va nel ventricolo destro e da qui va fino ai polmoni tramite l'arteria polmonare che si dirama in arterie più piccole e poi in capillari. Quindi compie questo percorso. Sangue blu è quello povero di ossigeno o sangue venoso. Quindi raggiunge l'atrio destro, va nel ventricolo destro e poi raggiunge i polmoni, polmone destro e polmone sinistro e rilascia l'anidride carbonica. Quindi tramite i capillari il sangue arriva a contatto con i tessuti polmonari ed avviene questo scambio. Ossigeno, prende l'ossigeno e lascia l'anidride carbonica. I capillari si riuniscono formando le vene polmonari che portano il sangue all'atrio sinistro del cuore, quindi qui i capillari si riuniscono, formano la vena polmonare e portano il sangue all'atrio sinistro del cuore. In questo modo si chiude il circolo, quindi da qui questo percorso e poi si torna al cuore. Passiamo adesso alla grande circolazione o circolazione sistemica. Il sangue proveniente dai polmoni è ricco di ossigeno che deve raggiungere tutti i tessuti. Quindi il sangue dai polmoni arriva nel ventricolo sinistro, arriva qui, e qui parte la orta che si dirama formando una rete di capillari che arrivano fino alla testa e a tutti gli arti. Le coronarie sono le ramificazioni della orta che portano ossigeno al miocardio tramite il sangue. Il sangue arrivato ai tessuti rilascia l'ossigeno e le sostanze nutritive e prende l'anidride carbonica e le sostanze di rifiuto. Il sangue torna quindi al cuore tramite la vena cava superiore e tramite la vena cava inferiore che chiudono il ciclo portando il sangue all'atrio destro. Quindi il percorso della grande circolazione è dall'atrio ai tessuti e poi di nuovo al cuore. In queste video lezioni abbiamo studiato l'apparato cardiovascolare nell'uomo. Il sangue è caratteristico degli animali vertebrati. Negli organismi più semplici vi è la circolazione di un liquido nutriente. Ad esempio negli organismi unicellulari abbiamo la circolazione che avviene tramite il movimento del citoplasma della cellula. Nei polpi e nelle meduse, che sono organismi molto semplici, il liquido vitale circola fra le cellule per diffusione. L'apparato circolatorio è necessario però negli animali più complessi ed evoluti. Ad esempio, negli inserti l'apparato circolatorio è aperto. Ci sono dei vasi che portano il sangue da uno o più cuori alle cellule. Gli anelli di, ad esempio il lombrico, sono stati i primi ad avere un apparato circolatorio chiuso. Per quanto riguarda i vertebrati, l'apparato circolatorio è di tipo chiuso. Nei pesci e nelle larve degli anfibbi abbiamo il cuore con un atrio ed un ventricolo. Negli anfibbi adulti il sangue passa due volte dal cuore, quindi la circolazione è detta doppia, però abbiamo due atri e un ventricolo. Avendo un solo ventricolo i due tipi di sangue vengono a contatto tra loro e la circolazione si dice incompleta. Quindi circolazione doppia negli anfibbi adulti perché il sangue passa due volte dal cuore, ma incompleta perché abbiamo un solo ventricolo e quindi due tipi di sangue, quindi quello ricco di ossigeno e quello ricco di nitride carbonica vengono in contatto tra loro. Nei rettili circolazione anche qui doppia e incompleta. In uccelli e mammiferi abbiamo il cuore con due metà e quattro cavità, come nel nostro caso, quindi la circolazione è doppia e completa. Doppia perché il sangue passa due volte dal cuore e completa perché i due tipi di sangue non si incontrano ma seguono percorsi diversi.